Una sconfitta amara, giunta dopo una nuova prestazione contraddittoria, la Rainbow Catania Basket si arrende al Cus Messina per 43-40 e chiude anzitempo la sua stagione senza centrare le finali regionali play-off per la prima volta da 5 anni. Un K.O. pesante, quello rimediato dalle ragazze arcobaleno nella serata di ieri al Palanebbiolo di Messina, in un match che Lamanna e compagne hanno interpretato in due modi diametralmente opposti. Le catanesi erano partite bene mettendo in campo la voglia di cancellare lo scivolone interno in gara 1 di domenica scorsa. Nel primo periodo è Capitan Ferlito a suonare la carica mettendo a referto sette punti aiutata dalla neozelandese Lewis, autrice di una tripla. La prima sirena vede le etnee avanti per 14-16, risultato che preannuncia un corpo a corpo tra le due formazioni che proseguirà fino a pochi istanti dalla fine. Il secondo quarto inizia con le catanesi che partono a combattuto, Chiarella e Lamanna allargano il gap fino al più 9 di metà frazione prima della parziale rimonta Cussina, vanificata ancora dai colpi di Francesca Chiarella che lancia la Rainbow un più 11 sul 18-29 che neanche i colpi di Cramere e Borgia riescono a limare, grazie anche al centro di Bruno, a pochi istanti dalla sirena di metà gara che vede le ospiti avanti per 21-31. Dopo il cambio campo però la gara dell'Etnee cambia diametralmente tornando sullo spartito già visto domenica scorsa nella prima sfida. Il terzo tempo è avaro di spettacolo con tanti errori per entrambe le compagini ma l'Etnee spariscono dal tabellino dopo la tripla di Capitan Ferlito concedendo un parziale di frazione di 16-3 che vale a gancio e sorpasso dalle Cussine. Il confronto resta tuttavia equilibrato arrivando sul 37-34 agli ultimi 10 minuti. La Rainbow prova la reazione rimontando con Lamanna e Caruso che la riportano avanti. La reazione delle Cussine si concretizza con Cramer dai liberi stesso fondamentale che condanna ancora una volta le Catanesi che con Chiarella, Ferlito e Lamanna mettono a referto un 2 su 6 negli istanti finale di gioco che permette al Cus Messina di gestire il piccolo vantaggio con Cramer e Borgia permettendo a quest'ultima di cannare entrambi i suoi tentativi dai liberi a pochi istanti dalla fine. Finisce con le Cussine in festa e le Catanesi che escono a Capochino ricevendo gli applausi dei supporter giunti in riva allo stretto che speravano di vedere ben altro esito. La stagione della Rainbow invece dopo aver registrato il primato nella regular season si chiude qui.